Prima di iniziare il video, che tra l'altro sarà molto breve, voglio fare una piccola premessa. Cercate sempre di valutare attentamente le azioni sulle quali investite. Se non avete tempo, potete decidere di fare due cose. O affidatevi a un consumente finanziario, o semplicemente, a mio avviso, il consiglio migliore che posso darvi è prendete tutto il mercato. Per farlo, prendetevi un ETF all country, così investite in tutto il mondo e riducete tantissimo i rischi di investimento. Tra l'altro, se avete piacere che vi porti qualche video, magari uno, dove vi consiglio 3-5 ETF, che potrebbero essere interessanti per prendere tutto il mercato, fate una sapercussione nei commenti. Premetto che questo video lo faccio solo per cercare di limitare il più possibile i danni che potenzialmente potete fare. Quindi, come vi dicevo prima, se non siete in grado di valutare un'azienda, vi consiglio semplicemente di non investire in aziende singole. Se volete farlo comunque, questo è un video molto breve in cui vado a far capire come limitare il più possibile i danni. Per farlo, vi consiglio di appoggiarvi a due siti, principalmente. Poi vi spiego altre cose che potrebbero essere interessanti per limitare appunto i danni. Il primo è sicuramente Simply Wall Street. È un sito che vi permette di guardare fino a 5 azioni a settimana, se non ricordo male, entrando con un vostro account. E vi permette di vedere molto brevemente se un'azione viene considerata sopravvalutata o sottovalutata dagli analisti. Per farlo viene utilizzato un discounted cash flow, che non vi sto a spiegare cos'è semplicemente perché. Generalmente, se non siete in grado di capire se un'azienda è sopravvalutata o no, non sapete nemmeno cos'è un discounted cash flow. E non penso nemmeno a vi interessi, se no vi sareste già informati. Detto questo, andiamo a vedere tipo Microsoft. Vi consiglio Simply Wall Street, anche se ovviamente questo video qua non è sponsorizzato, se no ve l'avrei detto. Semplicemente perché di prima occhiata è riuscito a capire già se è un'azione, ma soprattutto l'azienda è sana o no. Infatti, tramite un algoritmo loro interno, valutano lo stato patrimoniale, il conto economico e vi dicono molto brevemente se lo stato di salute dell'azienda è buono o no. Come potete vedere, Microsoft ovviamente è una grande azienda, ha dei bilanci solidissimi, infatti come salute è praticamente perfetta. Poi vi permette di dare uno sguardo al futuro, dicendovi quanto potenzialmente potrebbe crescere da qua ai prossimi tre anni. Ovviamente Microsoft, essendo già grande, non potete pensare che cresca all'infinito, quindi generalmente Microsoft non viene considerato un titolo growth. Detto questo, andiamo a vedere la parte che più potrebbe interessarvi, ovvero la valuation. Infatti, all'interno di questo sito qua potete vedere la valutazione che il sito fa tramite i multipli. Infatti va a prendere il price earnings e lo confronta con quello di settore dei competitor. Infatti, se andiamo a vedere il price earnings, che semplicemente è un indicatore che ti permette di capire quanto stai pagando l'azienda in relazione agli utili che fa. Infatti, viene messo a numeratore la market cap, quindi la capitalizzazione di mercato, cioè quanto vale l'azienda attualmente secondo il mercato e quanti utili fa. Un'altra cosa da considerare è il price earnings forward, quindi semplicemente il valore attuale dell'azienda fratto gli utili che farà nell'anno successivo. Infatti, la situazione qua cambia leggermente. Infatti, questo indicatore qua tiene conto anche della crescita dell'azienda. Infatti, noi possiamo andare ad inserire cliccando su questa spunta qua e quale situazione cambia. Se generalmente vedete che l'azienda che state valutando ha un price earnings superiore al suo settore, potrebbe già farvi partire un campanello d'allarme. Dovete considerare però che ovviamente i price earnings e i multipli generali dell'azienda tengono anche conto della crescita. Ovviamente un'azienda che ha un price earnings di 20 ma cresce del 100% all'anno, ovviamente è meglio di un'azienda che ha un piedi 10 e una crescita stimata negativa del meno 10. La cosa più importante che potete trovare all'interno di questo sito qua è sicuramente il confronto fra il prezzo di azione attuale e il fair value stimato dagli analisti di Simply Wall Street. Questo viene fatto tramite un discounted cash flow, che è quello che vi dicevo prima. Attualmente, secondo gli analisti di Simply Wall Street, Microsoft è correttamente valutata in base ai multipli che ha, le crescite che teoricamente sono quelle stimate per i prossimi 3-5 anni. Quindi attualmente non è super consigliato investire in Microsoft, secondo gli analisti di Simply Wall Street. Ovviamente se noi vogliamo vedere un'azienda sopravvalutata potrei magari prendervi, adesso non so cosa dicono gli analisti, però nella mia mente una azienda che potrebbe essere sopravvalutata, direi magari Enphase, che è recentemente scesa, però secondo me potrebbe risultare sopravvalutata. Ovviamente io ho guardato le 5 aziende che mi aspettavano, ma semplicemente faccio, apro una scheda in incognito, incollo il link e dovrebbe riuscire ad aprirmelo comunque. Vado su Valuation, vado a vedere, chiudo qua. Ok, purtroppo non posso fare un incognito perché mi blocca dopo un po', allora la cosa che vi posso consigliare io è utilizzare magari siti esterni che vi permettono di creare email temporanei. E se avete piacere di guardare più di 5 aziende potete farlo così, se no pagate, non so quanto costi perché non ne ho bisogno quindi non lo utilizzo tanto. Però, eh, costa 7 dollari al mese che a mio avviso potrebbe magari anche avere senso spendere se pensate di non essere in grado di voltare le aziende. Quindi se pensate che potrebbe limitare i vostri danni, siccome può anche starci investire questi 7 dollari. Però ci tenevo a fare vedere magari Enphase, quindi magari entro con un altro account, datemi solo due secondi. Ecco, come vi dicevo, secondo il mio algoritmo anche Enphase era sopravvalutato, sono andato a controllare e anche qua su Simple Wall Street mi era da sopravvalutata. Quindi, a mio avviso, se non avete una grande conoscenza dei mercati e delle azioni in generale potrebbe, appunto, come vi dicevo, limitarvi i danni. Un altro sito molto, secondo me, interessante per cercare, appunto, di limitare i danni potrebbe essere Alpha Spread. Che, diciamo, fa una cosa abbastanza simile, infatti se ne andiamo a prendere magari Microsoft, ovviamente utilizzando algoritmi diversi, le valutazioni sono leggermente diverse. Anche perché, facendo stime su tre anni, inevitabilmente le valutazioni sono diverse. Poi, se le valutazioni sono, discostrono nell'intorno del 10%, secondo me è normalissimo. Ad esempio, come potete vedere qua, Microsoft viene considerata sopravvalutata del 10%. Alpha Spread, al contrario di Simple Wall Street, che utilizza solo un discounted cash flow, utilizza, e qua viene spiegato, due metodi per calcolare il valore. Uno è prendere i multipli del settore, dell'industria generale e creare un'ipotetica valutazione per Microsoft. E l'altro, il discounted cash flow, poi vengono mescolate insieme e si tira fuori una valutazione. Infatti, noi abbiamo un discounted cash flow con una sopravvalutazione del 27%, una valutazione sui multipli che dà una sottovalutazione del 6%. Quindi, se noi le sommiamo, otteniamo all'incirca una sopravvalutazione del 10% e ci può stare. Andiamo a vedere per curiosità cosa dicono di Enphase. Perché, paradossalmente, come vi dicevo prima, per me Enphase è una superazienda, ma queste valutazioni qua non ha senso investirci. Quindi, vediamo ad esempio se siti del genere ci permettono magari di limitare i danni e ci allertano sul fatto che magari l'azienda potrebbe essere sopravvalutata. Come potete vedere qua, anche Alpha Spread considera Enphase attualmente sopravvalutata. Giusto per curiosità, voglio andare a vedere Tesla perché tutti questi siti qua l'hanno sempre considerata iper sopravvalutata. Generalmente, anch'io, fino a qualche mese fa, attualmente è risalita tanto, quindi potrebbe risultare di nuovo sopravvalutata. Però, secondo me, ha raggiunto un buon prezzo. Vediamo cosa considera questo sito qua. Ci sta una sopravvalutazione del 14%, me la posso aspettare e sono d'accordo. Andiamo a vedere per curiosità cosa dice Simply Wall Street. Simply Wall Street invece ci dà una sottovalutazione del 14%. Generalmente, se posso darvi il consiglio, io per capire effettivamente se un'azienda è sopravvalutata o no, farei una media fra questi due siti qua, che sono quelli che io personalmente reputo più validi. Ovviamente, come sapete, io per valutare le aziende utilizzo un mio algoritmo, quindi non mi baso questo. Però, negli anni, personalmente, ho fatto la schiamatura e secondo me questi qua sembrano i due migliori siti. Infatti, quando vado ad investire, io utilizzo un algoritmo, però, sostanzialmente, quando ho tempo, magari vado a vedere se la mia opinione è concordata anche dai siti più validi che ritengo ci siano sul mercato. Però, un indicatore che secondo me è il più utile che dovete considerare è il PEG. Perché sento tantissima gente che lo sottovaluta. Per andare a vederlo, basta semplicemente che andiate su Finviz, cercate tipo Tesla, e lo trovate qua. Cos'è il PEG? Come è scritto qua, è il Price to Earnings to Growth Ratio. Che quindi, non solo tiene conto del PE, ma lo mette in relazione con la crescita. Ad esempio, se io ho un'azienda che ha un PE di 10 e cresce gli utili per il prossimo anno del 10%, il PE che avrò è 1. Perché ho 10 di PE fratto 10, che sarebbe la crescita stimata, avrò un PE di 1. Che, teoricamente, secondo Peter Lynch, è il Price Earnings to Growth Ratio corretto. Personalmente, io vedendo un po' la mia storia, penso che tendenzialmente non convenga investire in aziende che hanno un Price Earnings to Growth Ratio oltre l'1,5. Sicuramente inizio a valutare le aziende che hanno un Price Earnings to Growth Ratio intorno all'1,3, perché lo reputo sia quello più corretto. Detto questo, se avete piacere di vedere un video in cui vi faccio vedere proprio come funziona il mio algoritmo, fatelo sapere questo nei commenti. E niente ragazzi, ci becchiamo al prossimo video.